Terremoto giudiziario al comune di Castelvolturno, decapitato l'ufficio tecnico e il comando di polizia municipale per una storia di corruzione e sullo sfondo anche di favori sessuali. Un'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa nei confronti di sette persone, di cui cinque dipendenti comunali, un geometra privato e il dirigente dell'Italian Maritime Academy Technologies Limat, con sede a Castelvolturno. Rispondono a vario titolo di corruzione, concussione, falso ideologico in atto pubblico, indebita, induzione a dare o promettere utilità. L'inchiesta ha preso le mosse dalla denuncia di un cittadino al quale, per ottenere la certificazione sismica, sarebbero stati chiesti 30.000 euro. Ma emerge dalle indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Mondragone e diretti dal maggiore Loreto Biscardi, la merce di scambio per le pratiche edilizie è stata anche il sesso. Un dipendente comunale, archivista e addetto all'albo online del comune avrebbe ottenuto favori sessuali per falsare. La data della pubblicazione delle istanze edilizie sull'albo online. Oltre alle prestazioni, Hotta avrebbe ottenuto anche ricariche telefoniche di 20 e 100 euro. Gli incontri sessuali, scrive il GIP, si sono tenuti sia negli uffici del comune che altrove e sono stati filmati dagli investigatori. Secondo quanto ricostruito da IPM Vincenzo Quarante e Giacomo Urbano dalla procura di Santa Maria Capavetere, diretta da Maria Antonietta Troncone, il manager dell'Accademia IMAT avrebbe evitato, grazie ai favori della Cricca, il sequestro di un simulatore, la cui cubatura differisce da quanto concesso. Secondo gli investigatori al comune erano al corrente dell'illecito ma preferirono chiudere un occhio. In più fu certificato falsamente il pagamento degli oneri concessori, 150 mila euro che l'IMAT non avrebbe mai versato. In cambio, scrive Agliati il GIP Alessandra Grammatica, il funzionario dell'UTC ottenne un posto di lavoro per un familiare nella ditta che si occupa della vigilanza all'IMAT, un viaggio di nozze in crociera per la figlia, ma anche cassette di pesce fresco e stufe per gli uffici comunali. Scenario analogo a quello che i PM ricostruiscono per la clinica Pineta Grande, dove, secondo l'accusa, nei garage sono stati realizzati dei locali tecnologici in assenza di autorizzazioni.